Ciao! Oggi parleremo dei protettivi che utilizziamo. Finazzi è un negozio che tiene molto alla salute e alla bellezza dei capelli. Quindi durante l'estate consigliamo un kit formato da bagno, quindi lo shampoo, il conditioner formulato in maschera e un protettivo in spray. Lo shampoo, ovvero il bagno, quello che noi chiamiamo così, ha la funzione di detergere i capelli in una maniera delicata. È adatto per un uso quotidiano e non vale assolutamente ad appesantirli. La maschera invece, rispetto alle maschere che si utilizzano durante l'anno, apporta più idratazione perché essendo il capello molto più stressato e soggetto a più crespo, ha bisogno di ricevere più nutrimento. Si completa poi il kit con un olio. Spesso è formulato in spray per una questione di comodità e molte volte viene formulato in confezioni da viaggio, quindi pochi ml da portare sempre in borsa. E spesso il kit è accompagnato da un favoloso gadget estivo. Vi aspettiamo in negozio per una consulenza e per consigliarvi il kit più adatto a voi. Ciao! Ciao! Ciao!